Buonasera, il Vangelo di oggi ci insegna due cose molto importanti nella nostra vita come un cristiano. Il Vangelo di oggi è il Vangelo di Matteo, capitolo 22, dove noi leggiamo la parabola di re. Un re ha organizzato un banchetto per la sua gente. Il nostro contesto, il re è Dio, il banchetto è il sacramento dell'Eucharistia. Quindi noi leggiamo in questa parabola i servitori del re sono andati per invitare tutti, cioè i cattivi, i buoni, per partecipare a questo banchetto. Questa cosa è molto importante per noi. Qualche volta noi pensiamo io non sono degno. Io sono un peccatore, quindi non posso partecipare a questo banchetto dell'Eucharistia, ma oggi Dio ci dice venite a me, questo banchetto anche per te. Quindi c'è l'invitazione per partecipare a questo banchetto per tutti a noi. La seconda cosa il Vangelo ci ricorda. C'è l'invitazione ma dobbiamo fare la preparazione per partecipare a questo banchetto. Noi leggiamo in questa parabola un uomo non ha potuto partecipare a questo banchetto perché lui non ha vestito proprio per il banchetto. Quindi preparazione significa la nostra preghiera prima di Messa, anche dobbiamo fare il sacramento della riconciliazione. Dobbiamo chiedere perdono al Signore per i nostri peccati. Quindi dobbiamo fare la preparazione per partecipare a questo banchetto. Anche c'è l'invitazione per tutti noi per partecipare a questo banchetto. Allora preghiamo. Oddio aiutaci per partecipare a questo banchetto. Dai le tue grazie per preparare bene per partecipare a questo banchetto. Cielo dato Gesù Cristo.